Benvenuti ad Acqua e Sapone News, il notiziero del risparmio e della convenienza. Diamo subito la linea alla nostra inviata a Costanza. Caracciolo! Grazie, amici di Acqua e Sapone News, Tenderly festeggia 45 anni di tenerezza e morbidezza con un'offerta eccezionale. La nuova carta igienica Tenderly Vintage Edition da 12 rotoli a soli 2,99€. Morbida, resistente e ideale anche per le pelli più sensibili e la confezione 100% compostabile. Vale, sembri più giovane, più bella. Merita delle creme di L'Oreal Paris. La crema giorno Age Perfect è in offerta a 11,90€, aiuta a contrastare il cedimento e dona un colorito rosio. Le ampolle della linea Revitalift Filler sono in offerta a 12,90€. E solo d'acqua e sapone con ogni trattamento viso Age Perfect con una confezione di ampolle, filler o laser ha in omaggio una pochette. Franci, manca solo un metà al Natale, io sto già pensando al cenone. Brava, gli uomini vanno presi per la gola, che prepari? Bignè con dentro gas a penduglia. E la vita a te sorride. Acqua e sapone, oltre la convenienza. Grazie a tutti.